Buon giovedì a tutti, eccoci di nuovo insieme, questa volta parliamo di pensioni e vado a rispondere alle tantissime persone che da ieri mi stanno chiedendo se è vero che per gennaio aumenteranno le pensioni minime a 630 euro e se è vero che per il mese di novembre ci sarà l'anticipo della perequazione. Partiamo dal primo peso opposto, non ci sarà nessuno anticipo per la perequazione né per le minime né per le massime, per avere l'aumento tra virgolette parliamo di una percentuale veramente misera, siamo sull'1,5%, bisogna attendere per il mese di gennaio 2025, mentre per l'aumento delle pensioni minime a 630 euro il governo sta pensando, ma attenzione sta valutando di portare le pensioni minime a 630 euro ma solo per gli over 75, quindi non è ancora nulla di scritto, non c'è nulla in manovra, semplicemente ripeto sta valutando di aumentare le pensioni minime a 630 euro solo per gli over 75.